Le novità previste dal nuovo codice della strada 2019 sono numerose. Per quanto riguarda in particolare la revoca della patente, la più eclatante consiste nell'introduzione di quello che è stato definito l'ergastolo della patente. Si tratta di una norma introdotta nell'ordinamento con la legge sul cosiddetto omicidio stradale. La legge consente finalmente di punire per omicidio chi abbia causato la morte di uno o più persone ponendosi dietro al volante sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze psicoattive. Se la fattispecie è colposa la reclusione che può essere inflitta può andare dai 2 ai 10 anni. Se il fatto è stato commesso condolo invece la detenzione può andare da un minimo di 8 ad un massimo di 18 anni. Se ne è parlato questa mattina nel salone di rappresentanza del palazzo della provincia di Salerno nel corso della giornata formativa sulla sicurezza stradale. L'incontro organizzato nell'ambito della collaborazione istituzionale e nell'ottica di fornire utili strumenti di analisi e d'approfondimento da prefettura e provincia di Salerno. D'intesa con la regione Campania e il comune di Salerno ha registrato i saluti istituzionali del presidente della provincia Michele Estrianese, del prefetto Francesco Russo, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, del direttore generale della banca Montepruno. Particolare interesse gli interventi del prefetto Roberto Sgalla, direttore centrale della polizia stradale del ministero dell'interno, del primo dirigente della polizia di Stato, Gian Domenico Protospataro, del direttore della scuola regionale della polizia locale, Dionisio Limongelli. Guardi, la sinergia è fondamentale, questo è un ritornello che io ripeto spesso, ma è nei fatti, ogni qualvolta. Oggi è un giorno, come dire, che in qualche modo è un segno di questo lavoro in comune e anche un impegno forte per il futuro, per il lavoro che dovrà essere fatto, che è tanto. Proprio nello svolgimento dei vari comitati per l'ordine di sicurezza pubblica che abbiamo fatto in prefettura è emerso questo problema, fra i tanti, e noi lo stiamo affrontando, prima di tutto migliorando sempre di più la conoscenza del territorio, con la collaborazione di tutti. Collaborazione faticosa, perché voi sapete come la componente polizia municipale in particolare, abbia numeri piccoli e abbia grandi difficoltà, anche per la difficoltà del territorio, ma devo rimarcare la grande collaborazione da parte sia delle amministrazioni comunali sia delle polizie municipali, nella individuazione di quelle che sono le criticità del territorio, nella predisposizione praticamente di tutta una serie di provvedimenti, di atti, di comportamenti che possano migliorare sempre di più il sistema della sicurezza stradale e in collaborazione con tutte le polizie statuali. Oggi tireremo le somme del lavoro già fatto, avremo degli importantissimi relatori, c'è il prefetto Sgalla che è stato già andato da qualche giorno in pensione, ma è stato il direttore delle specialità, quindi anche della polizia stradale, ed è un grandissimo esperto in materia, ed anche il dottor Plotto Spataro del Ministero dell'Interno che è uno dei maggiori cultori della materia, il nostro funzionale, il dottor Limoncelli della scuola regionale. C'è grande attenzione, grande impegno comune e quindi che passa attraverso sia l'individuazione dei cosiddetti punti critici e quindi anche eventuali lavori di miglioramento, insomma è molto prezioso in questo la collaborazione con la provincia, ma noi abbiamo interlocuzioni continue evidentemente anche con l'ANAS, adesso finiscono i lavori sulla tangenziale, come voi sapete ci hanno occupato e purtroppo con difficoltà per parecchio tempo, però significa che quando si lavora poi alla fine i risultati si raggiungono e anche per dare sempre di più questo senso di collaborazione da parte di tutte le forze di polizia e che comunque sempre la risposta migliora.